Buonasera da Sarocco di Capodimonte, il mondialito quinta edizione, prima giornata Europa League, se le sa o batte partono per i 8 a 5, migliore in campo a Giuseppe Di Varo, consegniamo la medaglia. Grazie. Complimenti Peppe. Bellissimo. Senti, una prestazione davvero buona alla vostra, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa avete un po' soffretto il tono degli avversari, forse era anche logico dato il risultato, e poi alla fine avete messo a sicuro i 3 punti e partite bene in questa casa. Sì, vorremmo riscattare la sconfitta della settimana scorsa perché abbiamo perso immediatamente, però purtroppo questo è il calcio. Ce la faremo tutta per la temporada in Champions. C'è un po' di cammarico per non avere... Tantissimo, perché abbiamo fatto sconfitte che non c'erano nel Cile né in terra. Cioè, poche parole. Senti, allora adesso mette tutto in questa... Sì, sì, il cuore e l'anima. Come abbiamo sempre fatto. Manca ancora qualcosina a livello tecnico, tattico, o pensi che va bene così per affrontare al meglio queste roba lì? No, la grinta c'è. Tanta volontà e il campo di la... la soluzione. Va bene, vuoi fare una dedicata speciale a qualcuno? Alla mia ragazza. Complimenti, alla prossima. Ce le sa.